Oh, vedi? Signore, Dio benedetto, questo è poco più che ho scappato dal reparto d'ostetricia. Pronti? Via! Vieni, Dio! Vieni, partiamo! Vieni qua, che la mamma è qua, corre, vieni qua! Andiamo, Cristi! Bravissimo! 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 Bravo! Bravi! Questo è bello! Questi sono il futuro! Vai! Vai, Daniele, vai! Hanno messo il rapporto troppo pesante, porca maledica! Dai, 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 dai! Corri, corri! Bravo! Bravissimo! 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 Grazie! Vieni qua, guarda! No, qua, qua! Ho detto qui, il mio mobile! Come se c'è il numerino? Ah, qua! Ah, qua! Ah, qua! Ma facciamo questa paniera? Qui è? Se li fa la testa! Il numerino trova la mia? Stas! 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 Ma se la metto dentro la tasca, un attimo che ritrovo quale è la tasca! Siete pronti? Pronti? Sì. Metti la mano qua. Via! Partiti di giro, vanno un giro, siamo a posto. Viene giù l'acqua che Cristo ne può mandare giù. Tre, quattro anni fa, ma una roba allucinante. Ma c'era anch'io con la salvazione. Grazie! Bravo Giammi. è andato via c'è il giacchetto sotto? Arianna aspetta aspetta qualcuno senza il giacchino? dai che mi è freddo su hai fatto bravissimo eh? eh fide tutti adesso te il do buongiorno 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 lei è? Riccardo bravi 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 bravissimo ma Marcheggiani dove è? lo so ma come lo so vado a cercare va bene se non ci ci farei passata alla fine di parassorti se non arriva facciata che basta pronti? pronti? per favore lasciamo libera la pista per favore bravi bravissimi 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 respira 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 secondo tre bravissimi bravissimi vai franci saluta guarda la telecamera coraggio siamo al terzo giro bravi bravi bravo ultimo giro che suona la campanella bravo 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 bravi